E' un po' di calme. E' un po' di calma. E' un po' di calma. E' un po' di calma. Però si è passare al di là, passare a Trieste. E' una palestra. E' una palestra. E' una palestra. Ah si, ma ci fa in duro fa una linea del Trieste. Se noi... questi qui sono le cercherine. Ci si piace sta dentro le forri. Quello lì può essere asciutto, facciamo anche noi dove è passato noi, qualcuno lo faccia. La corrente lì che c'è dal tuo asnago, faccia un corrente, di chilometri da Torentra è normale. Che viene fuori al lavatoio, però oggi è meglio vivere. Ma oggi c'è da qualsiasi parte. E come state non le faccio? Per andare a Piemonte? C'è nemmeno una a Como, a fine agosto. Ah, è Garzeno.